Piazza Salotto per una sera si è tinta del tricolore della nazionale italiana di calcio, arricchita dalla preziosa partecipazione, a meno di 24 ore, dalla convincente vittoria di Amsterdam contro l'Olanda del commissario tecnico Roberto Mancini e del presidente della FIGIC Gabriele Gravina. Prima di salire sul palco davanti ad una piazza della rinascita gremita, ma educata e rispettosa per via dell'enorme anticontagio, Mancini ha elogiato i tre ex calciatori del Pescara Marco Verratti, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, punte di diamante di una nazionale che si candida ad essere protagonista ai prossimi europei del 2021. Sì, beh, insomma, credo che abbiano lasciato dei buoni ricordi a Pescara, visto che hanno vinto un campionato, quindi, insomma, ci fa felice anche questo. Brutto, molto brutto. Grazie a tutti. Questione sta di chiusi ai tifosi fino al 7 ottobre prossimo e sul successo a seguito del ritiro del Napoli Calcio in Abruzzo sono stati temi affrontati dal Presidente della Federazione Giro Calcio, Gabriele Gravina. No, noi ci pensiamo, ci lavoriamo da tempo, ma non dipende da noi. C'è un comitato tecnico-scientifico, ci sono delle responsabilità in capo al governo, quindi noi ci rimettiamo a quelle che saranno le loro decisioni. Certo, noi continuiamo a lavorare, a presentare protocolli, a presentare progetti e soprattutto a dare garanzia di integrità legata alla tutela della salute. Ma oggi abbiamo soltanto una certezza, la parliamo sulle certezze. La certezza è che il campionato parte il 19 settembre, poi successivamente faremo una serie di riflessioni, nel caso in cui l'evoluzione di questa pandemia dovesse essere negativa sotto tutti i punti di vista. Oggi non mi sembra che ci siano queste condizioni. Secondo me il contratto, mi pare che sia un contratto chiaro, un contratto di sei anni, quindi sarà ripetuto. La cosa straordinaria è che si ritrova un'idea progettuale che è quella che il calcio ha una grande dimensione. Quando valorizzi la dimensione sociale, quando il calcio lo utilizzi non solo per la sua dimensione economica, ma soprattutto come grande veicolo di sviluppo di un territorio, i risultati sono sotto gli occhi di tutti.